Buon pomeriggio, si è conclusa la visita di Stato del primo ministro indiano Narendra Modi nella Federazione Russa su invito del Presidente Putin. Ieri i leader, come sapete, hanno trascorso molto tempo insieme in un'atmosfera informale, hanno discusso, come hanno riferito oggi alle delegazioni, praticamente tutta l'agenda della giornata. E oggi, già con la partecipazione delle delegazioni, noi abbiamo esaminato più dettagliatamente l'intero complesso delle questioni che rientrano nei nostri rapporti bilaterali. Ci sono molti piani, molto è stato fatto, le fondamenta sono state gettate magnificamente. Ora avete anche potuto sentire come il Presidente e il Primo Ministro, nel corso della cerimonia di premiazione in modalità Render, con l'Ordine di Sant'Andrea, il primo chiamato, nelle loro brevi discorsi hanno illustrato le linee principali della nostra collaborazione e hanno sottolineato l'obiettivo di approfondirlo in tutte, senza eccezione, ambiti economia, dialogo politico, umanitari, culturali, sportivi, legami educativi, cooperazione tecnico-militare, militare. Insomma, le relazioni rispondono pienamente al termine di partenariato strategico privilegiato che è sancito nei documenti russo-indiani e descrive, secondo me, in modo molto preciso i legami tra i nostri paesi che risalgono a lontana storia. Era un periodo in cui l'India lottava per l'indipendenza e l'Unione Sovietica fu tra i primi a riconoscere il nuovo giovane Stato con una storia e civiltà molto profonda, lunga, millenaria e nel corso dei negoziati di oggi, ovviamente, oltre agli obiettivi bilaterali che il Presidente e il Primo Ministro hanno delineato e che sono stati presi in carico, c'è stato uno scambio di opinioni sulla situazione internazionale, prima di tutto nel contesto della presidenza russa dei BRICS. L'India ha sostenuto il programma che stiamo attuando. Su modalità di render ha assicurato che accetta con piacere l'invito del Presidente Putin e parteciperà al Vertice BRICS nell'ottobre di quest'anno a Kazan. È stata discussa dettagliatamente anche la situazione e la prospettiva di sviluppo dell'Organizzazione della cooperazione di Shanghai. Anche qui le parti hanno confermato che il formato è uno dei più prioritari sia per Mosca che per Nuova Delhi. Si è parlato anche della cooperazione nel G20. Ora il Presidente è il Brasile, mentre l'anno scorso questi forum erano gestiti dall'India e oggi abbiamo parlato di come al Vertice del G20 a Nuova Delhi siamo riusciti con gli sforzi. Prima di tutto, naturalmente, la presidenza indiana, ma con il sostegno della Russia, della Repubblica Popolare Cinese e di altri rappresentanti dei paesi della maggioranza mondiale, di non permettere l'ucrainizzazione dell'agenda del G20 come insistentemente cercavano di fare gli Stati Uniti e i loro alleati. E nella dichiarazione finale di Nuova Delhi viene fornita una visione geopolitica obiettiva, tenendo conto di tutti i fattori e sottolineando che qualsiasi conflitto che in qualche modo influisce sull'economia, qualsiasi sanzione unilaterale, deve essere naturalmente valutata in modo equilibrato e senza compromettere l'agenda del G20 stesso, per così dire l'agenda fondamentale del G20, che consiste nello sviluppo di accordi per la crescita dell'economia globale, del sistema monetario e finanziario globale, prevenzione delle crisi in questi settori vitali e ovviamente abbiamo parlato della nostra collaborazione nelle Nazioni Unite. L'India è uno dei membri più attivi dell'ONU, noi interveniamo lì da posizioni simili, l'India vota per tutte le iniziative russe, compresa l'inammissibilità della glorificazione del nazismo, la prevenzione della corsa agli armamenti nello spazio, la garanzia della sicurezza informatica internazionale e molto altro. La Russia ha confermato la sua posizione a favore del supporto della candidatura indiana per un posto come membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU in caso di adozione di una decisione importante che richiede una maggioranza significativa, praticamente un consenso generale dei membri dell'Assemblea generale dell'ONU. Il lavoro non è semplice, il dialogo va avanti da tempo, ma la nostra posizione è a favore delle candidature dell'India. Il Brasile e le candidature del gruppo africano rimangono invariate. Allo stesso tempo partiamo dal presupposto che all'Occidente non debbano essere concessi posti aggiuntivi, né permanenti né non permanenti. L'Occidente è già troppo rappresentato in questo organo chiave. In generale la visita ha confermato l'impegno dei due leader e dei due Paesi nella promozione completa di quel particolare partenariato strategico privilegiato. Sono stati fissati compiti concreti per la loro realizzazione. Naturalmente vi informeremo a tempo debito. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.